Allora, questa sera, così come avete letto dal titolo, parliamo di una cosa molto molto importante. Questa considerate l'ultima puntata che facciamo quest'anno, perché poi ci prendiamo un po' di pausa per le feste natalizie e poi ci ritroveremo di nuovo a gennaio dopo le feste. Quindi volevo un po' lasciarvi con qualcosa di importante su cui meditare, su cui pensare. E quindi ho pensato di fare questa puntata dedicata appunto alla resistenza. La resistenza che tutti quanti noi abbiamo verso il mondo, verso le cose che non ci piacciono, verso mille cose. Ognuno di noi ha tantissime cose che non accetta, che comunque non ha ancora metabolizzato il fatto che comunque la realtà è dentro di noi. Questo ci crea sicuramente molti problemi. Considerate che l'accettazione, poi in fondo parliamo di questo questa sera, abbiamo già fatto una puntata sull'accettazione tempo fa. Però ho visto che purtroppo poi di nuovo, ma questa è normale, ci sono sempre comunque persone che mi chiedono ma come si fa ad accettare questa situazione, come si fa ad accettare cose che non ci piacciono, come si fa a far finta di nulla quando ci sono cose che in qualche modo ci preoccupano, o comunque ci turbano, come per esempio i momenti che stiamo passando in questi mesi. Ebbene, il problema è che noi, proprio perché crediamo che il mondo è separato da noi, quindi è un mondo esterno, è un mondo che non ci appartiene, è un mondo in cui ci sentiamo un po' calati, calati come degli estranei, qualcosa che non sentiamo nostro. E quindi questa separazione la viviamo come un problema, perché poi alla fine non riusciamo ad accettare tantissime cose che invece una persona che fa un percorso di crescita dovrebbe capire che in qualche modo è proprio da lì che si parte, cioè dall'accettazione del fatto che siamo i creatori della nostra realtà. Detta così, chiaramente questa l'avete già sentita, l'avete letta su mille libri, ve l'avrò detta anch'io mille volte, e comunque questa cosa è difficile da metropolizzare. Quindi questa sera ho voluto dedicare un'intera puntata a questo argomento approfondendo anche le cose che nell'altra puntata non avevamo fatto, quindi ne avevamo insomma approfondito in qualche modo, proprio per farvi comprendere questa forse è la cosa più importante, è la prima cosa forse fondamentale da comprendere probabilmente. Tant'è che ho scritto nel sottotitolo, avete visto, ho scritto la chiave della realizzazione, quindi la zero resistenza, quindi il fatto di accettare fondamentalmente il mondo che ci circonda. Accettarlo non perché magari siamo così succubi del mondo e quindi lo accettiamo passivamente. Adesso vedremo che l'accettazione è qualcosa di molto più importante, ma volevo sottolineare che per andare oltre l'accettazione il concetto più importante è proprio quello di zero resistenza, perché la resistenza la facciamo in mille modi, la facciamo quando ci lamentiamo, la facciamo quando ci arrabbiamo, la facciamo quando giudichiamo, la facciamo tutte le volte in qualche modo, oppure la facciamo semplicemente quando per esempio abbiamo dei desideri da realizzare, ma ci diciamo noi stessi, prima ancora che ce lo dicano gli altri, ah ma è difficile, non ci riuscirò, ma è una cosa complessa, e quindi ci tagliamo le gambe o comunque facciamo in modo che poi perdiamo entusiasmo delle cose, proprio perché creiamo appunto quella resistenza, quella resistenza che ci crea quegli ostacoli, fondamentalmente ci chiudiamo all'interno di una gabbia a causa di questa resistenza, non accorgendoci che fondamentalmente quella gabbia la stiamo creando noi, non è una gabbia che esiste a prescindere, non c'è qualcosa là fuori che ci limita o che ci possa in qualche modo fermare rispetto a quello che vogliamo fare, è la nostra resistenza appunto, è tutte le volte in cui appunto diciamo che non è vero, quando diciamo non ce la faccio, quando diciamo è troppo difficile, quando diciamo costa troppo, quando diciamo, oppure quando ditiamo gli altri come i responsabili delle cose che non ci piacciono, quando ci lamentiamo, quando giudichiamo, e questo è tutto quello che in qualche modo facciamo per fare resistenza proprio al mondo, giudichiamo il mondo come se appunto non ci appartenesse in nessun modo, però è chiaro che chi sta facendo questo percorso deve comprendere che questo è uno dei concetti, forse il concetto più importante da acquisire, da far nostro, è la prima abitudine mentale da prendere, è la prima abitudine mentale che ci deve portare ogni volta a dire io sono irresponsabile di tutto ciò che accade. Attenzione, la responsabilità, questo l'ho detto già altre volte, ma è importante ribadirlo, la responsabilità non è avere la colpa di, il concetto di colpa è un concetto che non esiste in un universo, è un'invenzione dell'uomo la colpa, è un'invenzione semplicemente che è stata fatta per tenere soggiocate altre persone, se si vuole tenere sotto controllo delle persone basta metterle paura e o se farle sentire in colpa e quindi la colpa di fatto è soltanto uno strumento che è fittizio, non esiste, perché non esiste colpa? Perché di fatto non esiste torto, perché tutto ciò che accade è semplicemente qualcosa che accade perché deve accadere, è un'esperienza appunto, non esiste un'esperienza negative o positive, è la nostra mente che vuole etichettare a tutti i costi le cose in modo da farsi piacere alcune cose e non farsene piacere altre. In realtà tutto ciò che accade, ma questo già l'abbiamo detto mille volte, è qualcosa che va sempre considerato come un'esperienza, anche quando quell'esperienza non ci piace, chiaramente. Devo sempre chiedersi ok, ma cosa posso trarre di buono da questa cosa che apparentemente non mi piace, che apparentemente magari mi sta creando dei problemi? Cosa posso tirar fuori che possa in qualche modo farmi crescere rispetto a a quello che mi sta accadendo? Perché questo è l'approccio giusto, l'approccio di comprendere che siamo all'interno di questa realtà che poi realtà non è, sappiamo che è un'illusione, e proprio per fare esperienza di tutto, di tutto al contrario di tutto, dobbiamo comprendere cosa è l'amore passando attraverso la paura, perché la paura è al posto dell'amore, bisogna comprendere cosa vuol dire la bontà passando attraverso la cattiveria e quant'altro, quindi gli opposti in realtà stanno lì proprio per farci comprendere l'importanza delle cose, l'importanza dell'amore, l'importanza della gratitudine, l'importanza del fatto di essere esseri divini, tant'è che noi entriamo in questo mondo dimenticando in qualche modo di essere divini, proprio perché dobbiamo farlo, proprio perché questo ci serve per fare esperienza di tutto e del contrario di tutto, quindi il mondo duale c'è per questo motivo fondamentalmente, ma anche se non avesse questo scopo, che poi se volete uno potrebbe anche dire ok, il mondo non ha poi di fatto uno scopo, questo l'ho detto anche io molte volte, probabilmente il mondo non ha un vero scopo perché lo scopo lo diamo noi ogni volta, però bisogna comprendere che siamo i responsabili, quindi ripeto, non come il concetto di colpo, ma come il concetto di, la responsabilità è un concetto se volete di forza, proprio perché ci deve far comprendere che siamo proprio coloro che creano la realtà, quindi è un concetto assolutamente che deve farci sentire in qualche modo potenti, tra virgolette, e non cadere quindi nel concetto di colpa, non cadere nel fatto che comunque siccome quelle cose che non ci piacciono, quelle cose che non ci piacciono, non possiamo pensare che siamo stati noi, perché altrimenti ci sentiamo in colpa magari per aver fatto certo, per aver in qualche modo creato certe cose. va anche compreso e questo lo vedremo durante questa questa diretta che noi pensiamo di poter fare qualcosa per poter evitare problemi o per poter fare insomma quello che vogliamo fare di fatti di fatto così come ho scritto anche nei miei libri soprattutto nella mente senza tempo in realtà non c'è colui che fa e questo è un concetto molto molto importante da comprendere forse la chiave è proprio questa quella che ci fa poi accettare il fatto di essere responsabili di tutto quanto quello che accade lo vediamo più in là perché è un concetto che ho già introdotto in altre dirette ma oggi la riprenderemo proprio per parlare dell'accettazione e quindi della zero resistenza sappiamo che siamo i creditori del mondo ok su questo penso che ormai se siete qui se state ascoltando quello che dico penso e credo non ci siano più dubbi su questo chiaramente è soltanto una conoscenza che abbiamo a livello intellettuale non l'abbiamo ancora acquisita a livello più profondo lo sappiamo perché magari ci ha detto la fisica quantistica perché magari abbiamo creduto al fatto appunto che dato che la materia non esiste quando non viene osservata è chiaro che l'osservatore stesso che sta creando la realtà che osserva e quindi di fatto la realtà è soltanto una proiezione se volete di quello che è l'osservatore di quello che in qualche modo rappresenta colui che osserva tant'è che il mondo lo sapete abbiamo detto tantissime volte è uno specchio è qualcosa che rispecchia letteralmente tutto ciò che noi in qualche modo abbiamo dentro e quindi rappresenta aspetti di noi è come se fossimo dentro una sfera cava con le pareti interne ricoperte di specchi e quindi dovunque guardiamo non facciamo altro e vedere aspetti di noi stessi questo è il discorso ma il problema è che questa cosa l'abbiamo dimenticata non la consideriamo e anche quando magari qualcuno ce la dice sì questo ci piace possiamo anche accettarlo però poi purtroppo che so il giorno dopo basta che magari qualcuno che so ci taglia la strada con la macchina al giorno dopo nel traffico ecco lì che ritorniamo di nuovo nella dualità ritorniamo nel concetto di separazione ritorniamo nella rabbia ritorniamo nel giudizio proprio perché avendolo fatto per tantissimi anni è chiaro che uscire fuori da questa idea soltanto perché ce l'ha detto che so io Paolo Marrone piuttosto che l'abbiamo letto solo in un libro chiaramente non basta e quindi il mio invito è proprio quello di iniziare a rendere questo concetto una vostra abitudine mentale guardate non è così difficile si può fare è chiaro ci vuole impegno ci vuole costanza ci vuole volontà perché come ho detto prima è talmente forte l'abitudine le altre abitudini che abbiamo l'abitudine di considerare il mondo esterno a noi che scardinarla è veramente difficile però non si può togliere un'abitudine l'unica cosa che possiamo fare non si può allontanare un'abitudine mentale quello che possiamo fare soltanto è sostituirla con qualcos'altro e quindi la cosa importante da fare qual è? è quella di osservare è tutto da lì in parte di osservare i nostri pensieri di osservare quello che pensiamo quello che diciamo quello che facciamo ma soprattutto quello che pensiamo e quindi comprendere tutte le volte accorgerci tutte le volte che stiamo per esempio giudicando l'altro o stiamo insomma stiamo ponendo una qualunque delle resistenze e quelle che vi ho elencato le resistenze sono appunto il giudizio la lamentela piuttosto che dire a se stessi non ce la faccio o è troppo difficile o costa troppo tutte queste cose sono tutte resistenze che noi stiamo in qualche modo ponendo ecco accorgerci questa è la chiave della resistenza che stiamo in qualche modo mettendo di fronte a noi di questa barriera che in qualche modo ci blocca e non ci fa andare avanti e non ci fa veramente vivere come dovremmo vivere cioè liberi da qualunque vincolo da qualunque condizionamento nel momento in cui ci accorgiamo che stiamo cadendo in una delle resistenze stiamo facendo resistenza in qualche modo ecco la prima cosa se ce ne accorgiamo e ce ne accorgiamo soltanto se stiamo osservando la nostra mente se ci siamo abituati ci stiamo abituando ad osservare la nostra mente ecco che la prima cosa da fare è proprio quella di cambiare pensiero e quindi ricordarci quello che magari abbiamo letto sui libri quello che stiamo dicendo questa sera e cioè che il mondo è soltanto la nostra creazione e già il fatto che riusciamo a riconoscere la resistenza che stiamo opponendo già questo la scioglie già in questo questo basta ad annullarla in qualche modo a renderla inattiva proprio perché la nostra consapevolezza la nostra osservazione trasforma le cose questo non lo sapete l'osservatore modifica il mondo che osserva e quindi già l'osservazione di quella resistenza già il fatto di riconoscerla come tale già ci pone ad un livello superiore già ci pone al livello se volete dell'osservatore quello con la O maiuscola che quindi sa che sta osservando un mondo che sta creando lui e quindi non sta semplicemente subendo qualcosa che è al di fuori di lui e che è separato da lui e quindi questo è il primo passo da fare quindi l'osservazione dei pensieri per fare in modo che queste resistenze iniziano in qualche modo ad essere riconosciute ad essere svelate svegliamo il trucco che rende questa illusione la rende tale ecco se proprio volete fare una cosa ovviamente veramente importante veramente che può cambiarvi e può dare una svolta alla vostra crescita è proprio quella di iniziare a riconoscere le vostre resistenze questa è la primissima cosa da fare è il punto da cui si può iniziare perché molti mi chiedono ma da dove inizio cosa inizio a fare ecco iniziamo dalle resistenze guardate sono tantissime in qualunque momento le tiriamo fuori qualcuna ve l'ho già elencata ma comunque ognuno ha le sue sicuramente il problema è che agiscono indisturbate perché? perché non ce ne accorgiamo perché magari ci ritroviamo a giudicare un altro o un'altra persona o un avvenimento o un qualunque cosa senza renderci conto che siamo caduti nel giudizio e il giudizio è l'espressione della separazione è chiaro perché se giudico un altro vuol dire che penso che l'altro sia separato da me e quindi soprattutto quando lo giudico negativamente perché è chiaro che sto in qualche modo pensando lui fa certe cose che io per esempio non farei mai oppure lui è in questo modo ma io sono diverso ecco già questo quindi crea quella separazione che va a rafforzare se volete l'illusione di un mondo separato il mondo separato l'illusione del mondo separato è appunto un'illusione quindi non può vivere di vita propria proprio perché è un'illusione non può essere qualcosa che c'è a prescindere da noi siamo noi che la stiamo alimentando continuamente questo è importante da comprendere come lo alimentiamo? Lo alimentiamo esattamente così come ho detto prima cioè con le nostre resistenze e tra queste resistenze c'è anche il giudizio soprattutto il giudizio quindi le resistenze sono proprio quelle cose che tengono viva questa illusione o comunque tengono vivo quel sentimento di di vivere all'interno di un mondo che non ci appartiene e lo rafforzano rafforzano questo pensiero e quindi tutte le volte che noi magari leggiamo un libro piuttosto che appunto ascoltiamo qualcuno che ci dice che il mondo è un'illusione abbiamo poi problemi a uscirne fuori perché? Perché la nostra abitudine mentale è quella che ci porta sempre a considerare il mondo esterno a noi e quindi separato e quindi pieno di pericoli e quindi pieno di persone cattive e quindi pieno di cose da giudicare cose di cui aver paura cose di cui scappare in realtà come vedremo questa sera l'illusione può essere chiaro non è che l'illusione sparisce non è che ci troviamo in un mondo idilliaco fatto così di fiorellini e uccellini che cantano il mondo rimane solo che iniziamo a vederlo con altri occhi iniziamo a e questo è il risveglio se volete cioè il riuscire a comprendere che ciò che vediamo ciò che sta là e che rimarrà là perché non cambierà anche dopo averlo smascherato inizierà ad essere considerato diversamente da noi nel mio libro la mente senza tempo ho fatto l'esempio della persona che sta in un deserto e vede un miraggio è chiaro che se quella persona sa che quello è un miraggio perché magari qualcuno glielo dice o magari perché se ne accorge è chiaro che non tenterà di correre verso quel miraggio per bere l'acqua perché sa perfettamente che è un miraggio quindi il miraggio non scompare nel momento in cui l'osservatore si accorge dell'illusione l'illusione non scompare il miraggio sta ancora lì lo vede ancora solo che sa che quello è un miraggio e quindi cosa fa? si comporta diversamente e quindi non va non fa cose stupide come appunto quelle di correre verso qualcosa che non c'è ma semplicemente comprende quello è un miraggio quindi si comporta di conseguenza ecco se noi iniziamo a comprendere che il mondo è un'illusione il mondo rimane là non è che sparisce il miraggio non scompare cos'è che cambia? cambia il nostro approccio alla vita iniziamo ad avere meno paura iniziamo ad essere più coraggiosi appunto iniziamo ad affrontare le cose diversamente se volete anche con maggior gioiosità con maggiore giocosità perché comprendiamo l'illusionalità delle cose che vediamo magari non ci attacchiamo un po' meno alle cose o comunque non ci identifichiamo nelle cose perché per esempio ci identifichiamo nei vestiti che portiamo perché magari che so ci piace i vestiti firmati perché questo ci fa appunto ci connota come persone di un certo tipo per esempio chi si compra una macchina bella perché perché magari attraverso la macchina pensa di completarsi e pensa quindi di essere più figo tra virgolette perché è una macchina bella ora non dico di non comprarsi le macchine o di non comprarsi i vestiti firmati ci mancherebbe altro il mondo è un gioco e quindi come tale giochiamolo fino in fondo ci piace una ci piace la Ferrari se possiamo permettercela compriamoci una Ferrari perché no ma consideriamola per quella che è cioè uno sfizio un gioco qualcosa che dobbiamo goderci finché c'è un giorno poi non ci sarà più e quindi basta non attacchiamoci le cose ma soprattutto non consideriamo le nostre estensioni di fatto cioè cose che ci completano perché poi appunto le persone come ho detto si identificano nelle proprie cose nella propria casa nella propria macchina nei propri vestiti e quindi crede di poter valere di più se ha una macchina bella o una casa bella o un vestito firmato ecco in realtà il nostro valore non è mai stato intaccato da nulla siamo esseri divini siamo esseri immensi siamo esseri di luce siamo il massimo che possa mai esistere che sia mai esistito e mai esisterà solo che non lo sappiamo o perlomeno l'abbiamo dimenticato e quindi questa mancanza che deriva proprio dal fatto di aver dimenticato la nostra vera natura la esprimiamo cerchiamo di colmarla in qualche modo attraverso le cose che compriamo e quindi ci attacchiamo le cose poi le consideriamo importanti perché attraverso di esse ci sentiamo importanti ecco questo è un altro tipo di resistenza se volete anche l'attaccamento alle cose è una resistenza è un qualcosa che ci esattamente come tutte le altre resistenze tiene vivo quel miraggio in pratica vediamo un miraggio corriamo a bere l'acqua e non troveremo mai l'acqua perché non riuscirò mai a dissetarci perché quello è un miraggio appunto così come le cose che compriamo non saranno mai in grado di renderci felici in maniera definitiva magari molti diranno ah ma io sarò felice quando avrò quella cosa particolare o quando incontrerò che so io la persona la mia anima gemella ecco in realtà non è così poi quando quella cosa ce l'abbiamo ci rendiamo conto che non è così ma questo semplicemente devia dal fatto che ci stiamo attaccando a un'illusione come può qualcosa che è illusorio farci felice si ci potrà far felice per un po' di tempo chiaro si sicuramente magari che so io se vinciamo un premio alla lotteria saremo felicissimi ma poi pian piano quella felicità scomparirà perché? perché semplicemente si tratta di un'illusione e quindi se quella felicità non l'abbiamo trovata dentro in qualche modo cioè non l'abbiamo riscoperta perché già c'è al nostro interno ma l'abbiamo semplicemente abbiamo usato un qualcosa di esterno come surrogato di quella felicità beh qualcosa di esterno è illusorio e quindi necessariamente scomparirà prima o poi la felicità legata a quella cosa scomparirà ed ecco quindi che bisogna iniziare a cambiare il modo di approcciare le cose la zero resistenza vuol dire iniziare a comprendere che il mondo è un'illusione che il mondo non ha poi tutta quell'importanza che gli diamo gli diamo un'importanza talmente alta che addirittura pensiamo di morire se che so io ci viene a mancare qualcosa no? non abbiamo che so ci rubano la macchina pensiamo di che la nostra vita è finita perché non abbiamo più la nostra macchina no? o ci comportiamo comunque in maniera analoga per tantissime altre cose e l'ho sempre detto ci sono persone che scrivono addirittura sulla propria tomba fanno scrivere qui già c'è il dottor l'ingegnere l'avvocato no? ma semplicemente quella persona tra virgolette in cui si erano identificati non c'è più quell'avvocato anzi non è mai esistito di fatto quell'avvocato quell'ingegnere quella identificazione attraverso la quale quella persona pensava di poter arricchire il proprio essere e magari si vantava del fatto che comunque avesse una laurea in un qualche che so fosse un avvocato piuttosto un ingegnere piuttosto che un dottore fino ad arrivare addirittura a scrivere sulla tomba quando fondamentalmente il corpo non c'è più quindi quella persona in cui si era identificata semplicemente scomparsa e con lui sono scomparse tutte le cose attaccate a quella persona il suo ruolo tutto ciò che aveva e quant'altro bisogna comprendere che siamo oltre che siamo altro che siamo qualcosa di più di quello che crediamo di essere e quindi bisogna iniziare a comprendere che il mondo in qualche modo è dentro di noi è qualcosa che fa parte di noi se noi siamo esseri divini in continua espansione la nostra espansione sapete attraverso cosa si esprime attraverso le esperienze appunto quindi la nostra espansione quindi la nostra se volete il nostro percorso di crescita avviene attraverso le esperienze sia belle che brutte o perlomeno quelle a cui noi attribuiamo l'etichetta di bella e quella a cui attribuiamo l'etichetta di esperienza brutta perché in realtà sono soltanto esperienze come ho detto prima quindi la la perché anche quello è un giudizio anche il dire quell'esperienza non mi piace quella cosa non la voglio più quella cosa è un giudizio cioè stiamo cadendo comunque nel giudizio in ogni caso anche se il giudizio non è verso una persona ma è verso un evento noi stiamo comunque ribadendo quella separazione rispetto a ciò che ci sta accadendo ma tutto ciò che ci accade oltre al fatto che lo abbiamo creato noi d'accordo ma c'è anche un'altra cosa molto importante da comprendere che tutto ciò che ci accade cioè tutto ciò che fa parte del qui e ora tutta la situazione attuale che fa parte della nostra vita quindi che so io le nostre conoscenze la nostra casa il nostro conto in banca il nostro lavoro il nostro compagno o compagna se ce l'abbiamo o se non ce l'abbiamo tutte queste cose fanno parte di quella che è la situazione attuale del nostro qui e ora ora per chi ha letto nel mio libro la mente senza tempo saprà che il qui e ora in realtà è un sinonimo per indicare noi stessi cioè noi siamo il qui e ora ecco finché non entriamo in quest'ottica è chiaro che non potremo mai comprendere realmente cosa vuol dire il zero esistenza noi siamo il qui e ora quindi il respingere o fare resistenza verso qualunque cosa che fa parte del qui e ora vuol dire respingere o fare resistenza verso una parte di noi stessi una parte che ci appartiene quindi non stiamo riconoscendo una nostra parte ma è chiaro che quella è una parte che ci appartiene quindi non potremo mai non riconoscerla il nostro non riconoscimento è soltanto qualcosa che ci fa del male è solo qualcosa che ci fa star male tant'è che quando siamo nel giudizio comunque quando siamo nei pensieri negativi stiamo di fatto non stiamo bene abbiamo un peso un'energia negativa che ci opprime in qualche modo ecco l'energia negativa devia semplicemente dal fatto che non stiamo riconoscendo una parte di noi stessi è come un genitore che non riconosce il proprio figlio comprendete il dolore di questa cosa cioè quanto la nostra anima il nostro vero sé in realtà sta in qualche modo non dico soffrendo ma comunque c'è appunto resistenza quella resistenza è qualcosa che stride che crea che crea delle energie negative che ci fanno star male poi di conseguenza lì sentiamo quel peso sentiamo quella quella sensazione di malessere interno se volete quindi è importante comprendere che il qui e ora c'è tutto ciò che fa parte della nostra vita in questo momento è stato comunque è comunque parte di noi stessi è qualcosa che ci appartiene noi siamo il qui e ora quindi questo al limite scrivetevelo da qualche parte io sono il qui e ora il mio ultimo libro si intitola tu sei origine penso che molti di voi lo hanno anche lo stanno anche scherogendo perché l'ho regalato in formato kindle appena uscito tu sei origine questo è il concetto più importante di tutti se volete che deve farci comprendere che siamo ciò che vediamo siamo all'origine di ciò che stiamo vedendo ma se ne siamo all'origine vuol dire che noi siamo ciò che guardiamo noi ci stiamo semplicemente specchiando all'interno di un qualcosa che crediamo separato ma in realtà non lo è non lo è per niente ecco e quindi è importante comprendere che nel momento in cui comprendiamo questa unicità delle cose questa appartenenza del mondo a noi stessi quando comprendiamo che noi siamo il qui e ora e allora deve iniziare a uscire fuori in qualche modo a venire a venire fuori l'idea che probabilmente la nostra lamentela è una cosa stupida da fare il nostro giudizio è una cosa che non ha alcun senso probabilmente quindi non è che non dobbiamo giudicare non dobbiamo lamentarci perché ce l'ha detto Paolo Marrone o perché magari che so io è scritto nei dieci comandamenti no dobbiamo comprenderlo a livello più profondo comprendendo appunto che noi siamo il qui e ora siamo tutto ciò che vediamo quindi non riconoscere o comunque rifiutare o in qualche modo opporre resistenza appunto verso qualunque cosa vuol dire non riconoscere una parte che ci appartiene ecco questa è la prima idea da farsi rispetto al mondo consideratelo un'estensione di voi stessi tutto il cosmo anche la stella più lontana che sta a 10 miliardi di anni luce da qui anche quella stella fa parte del nostro essere perché non esisterebbe se non esistiamo noi non potrebbe esistere senza di noi esiste grazie al fatto che noi esistiamo anche quella stella così lontana quindi comprendete che il cosmo è qualcosa che dovete considerarlo come se fosse il vostro corpo beh l'ho scritto anche nei miei libri lo dico spesso noi siamo grandi quanto l'universo quindi il concetto di essere grandi quanto l'universo vuol dire proprio questo ma l'universo che cos'è? pensateci un attimo l'universo è di fatto il qui e ora tutto ciò che accade dov'è che accade? quando accade? dove e quando? beh qui e ora quindi è chiaro che il qui e ora cioè l'universo sono sinonimi potrei dire uno o l'altro ma sto di fatto parlando della stessa cosa non sono altro che espressioni di me stesso quindi fanno parte di me voi siete più grandi della luna più grandi del sole più grande della più grande stella che esiste nell'universo più grande della più grande galassia perché? perché la comprendete perché siete i contenitori di quelle cose e chiaramente un contenitore non può essere più piccolo di ciò che contiene no? questo lo comprendete ecco e quindi la resistenza deve iniziare a dobbiamo iniziare a riconoscerla questa resistenza questa è la cosa importante nel momento in cui comprendiamo questo comprendiamo che siamo ciò che vediamo quando comprendiamo che ci stiamo specchiando nel mondo anche se ciò che vediamo non ci piace perché molte cose non ci stanno piacendo d'accordo ma è qualcosa che ci appartiene è qualcosa che fa parte di noi e quindi più che respingerla il discorso da fare è di riconoscerla come una propria creazione il riconoscimento questa è la prima è la primissima cosa da fare riconoscere che tutto è la nostra creazione è come riconoscere un proprio figlio e vi rendete conto che nel momento in cui riuscite a farlo questo chiaramente questa sera magari non ci riuscite perché magari ma se su questo argomento magari ci tornate da soli domani o stasera quando ando a letto o comunque iniziate a meditare su questa cosa e iniziate a considerarvi grande quanto tutto l'universo beh iniziate già a sentirvi un po' meglio rispetto a quello che accade proprio perché iniziate a comprendere che in realtà voi siete appunto ciò che include tutto ciò che esiste già questo vi fa cambiare un po' il punto di vista magari non vi risolve i problemi sicuramente no però vi fa sicuramente comprendere un po' di più e un passetto avanti verso la comprensione di quello che in realtà di quella che in realtà è la nostra natura ok? allora adesso io volevo sentire un attimo che c'è qualche domanda così magari poi andiamo avanti allora allora Mariano mi chiede il mondo è duale ok? possiamo individualmente trascendere la dualità? se sì come fare? basta la semplice osservazione? Mariano è quello che ho detto prima fondamentalmente lo si fa attraverso il primo passo è riconoscere che quello che sto dicendo in qualche modo è la realtà cioè il fatto che comunque noi siamo i creatori di questo mondo e quindi tutto ciò che vediamo fa parte di noi stessi è il riconoscimento la prima cosa proprio perché il riconoscimento porta alla luce quello che in qualche modo è sotto è coperto dall'inconsapevolezza la consapevolezza qui siamo nel gruppo ritrovo della consapevolezza quindi non potrei che dire questo la consapevolezza è ciò che porta alla luce la verità la realtà la realtà con la R maiuscola quindi la prima cosa da fare per trascendere poi trascendere vuol dire andare oltre quindi trascendere la dualità vuol dire andare oltre la dualità ma cosa vuol dire andare oltre la dualità riconoscerne l'illusorietà questo vuol dire io vado oltre qualcosa se riconosco che è una cosa illusoria fittizia è un'invenzione è un trucco è un sogno se vado a vedere uno spettacolo di illusionismo magari scopro il trucco ecco che ho trasceso il trucco proprio perché l'ho scoperto quindi quello spettacolo non mi fa più tanta impressione tra virgolette perché ho capito qual è il trucco e quindi magari ne rido dico sì ma guarda quello lì ha fatto scivolare la carta dentro dentro la manica oppure che so io la colomba era già nel cappello perché no magari mi accorgo che c'è quindi non penso che in qualche modo non mi stupisco più ecco mettiamola così nel mondo oltre a stupirci facciamo altre cose meno carine ci impauriamo ci arrabbiamo giudichiamo ci lamentiamo ecco tutte queste sono reazioni dovute al fatto che non stiamo riconoscendo il trucco non abbiamo compreso quello che c'è non abbiamo trasceso la dualità quindi trascendere la dualità è semplicemente portare alla luce la sua illusorietà quindi riconoscere una volta per tutte che è fatta di niente esattamente come quella persona che sta in quel deserto che capisce che quello verso cui sta correndo è un'illusione è un miraggio a quel punto smette di correre smette di credere che quel miraggio possa ristorarlo e dissetarlo perché capisce che è un miraggio appunto e come ho detto prima il miraggio non sparisce quindi chi pensa che il risveglio sia far sparire questo mondo e quindi trovarsi in un altro posto che so io idilliaco fra le nuvolette suonando un'arpa ecco non è così il mondo rimane il mondo sta qua perché illusione c'è sempre così come quel miraggio non sparisce però l'affrontiamo in modo diverso dove la trascesa e quindi averla riconosciuta quindi Mariano c'è da fare un riconoscimento questo è il modo per farlo come lo si fa beh innanzitutto dicendocelo dicendocelo semplicemente magari scriviamocelo su un pezzo di card su un post-it che attacchiamo sullo specchio del bagno per esempio magari che so io tempo fa consigliai di scriversi sullo specchio del bagno appunto io sono origine già quella è una frase potentissima io sono origine vuol dire che sto riconoscendo di essere la causa e l'origine di tutto quanto già questo è potentissimo è una frase banale ma che invece ha un significato molto profondo e guarda che quella frase lì se te la ripeti spesso poi va a finire nell'inconscio comunque sia va a modificare qualcosa dentro se te la ripeti in qualche modo anche tutte le volte in cui ti scopri a giudicare gli altri piuttosto che a lamentarti e invece di lamentarti dici no io sono origine bastano queste tre semplici parole io sono origine esattamente per questo ho chiamato il mio ultimo libro tu sei origine proprio perché volevo ribadire perché tutti quasi tutti gli articoli contenuti i capitoli contenuti in quel libro parlano di questo parlano del fatto che noi siamo l'origine del mondo l'origine della realtà ok ecco quindi il trascendere è andare oltre e si può andare oltre soltanto quando si scopre il trucco quando si riconosce l'illusorità di ciò che stiamo vedendo ok perfetto vediamo un po' c'è qualche altra domanda oh non risponderò a domande su covid vaccini cose di questo genere perché questa è una sera in cui appunto dobbiamo essere spenserati tranquilli dobbiamo prendere il mondo come un gioco appunto ok e quindi dare risposte su quello vuol dire secondo me dargli importanza dargli comunque appunto rivolgere l'attenzione l'attenzione è molto potente perché dà appunto importanza e rende reale appunto l'illusione questa sera parliamo dell'esistenza ma non parliamo di altro ok allora perché ho visto c'era qualche domanda sull'argomento allora Michele giustamente una domanda è un'affermazione mi piace molto Michele dice hai parlato della felicità la felicità è qualcosa di esterno a noi un bene materiale eccetera la contentezza come dice già la parola stessa è qualcosa che conteniamo già dentro di noi nel nostro contenitore sì sì assolutamente sì le parole sono molto importanti quindi l'etimologia delle parole è qualcosa che bisogna sempre considerare comunque sì sono d'accordo con te Michele ma la felicità anche io comunque felicità e contentezza diciamo li uso come sinonimi in qualche modo la felicità è assolutamente sì dentro di noi su questo non c'è alcun dubbio e se iniziamo a guardarci dentro se iniziamo a fare il lavoro di introspezione un lavoro per esempio che abbiamo fatto nelle 3-4 dirette in cui abbiamo fatto appunto quel lavoro di ricerca al nostro interno del nostro vero sé lì ci rendiamo conto davvero quando iniziamo a toccarlo con mano perché finché lo diciamo soltanto la felicità è dentro di te sì d'accordo ma uno dice vabbè ma dove sta io non la sento quindi è chiaro che finché rivolgiamo la nostra attenzione all'esterno la felicità non la ascoltiamo non la sentiamo non la possiamo sentire e quindi abbiamo bisogno di cose esterne per poter provare felicità e quindi abbiamo bisogno appunto di adesso io vince un premio piuttosto che avere un riconoscimento piuttosto che realizzare un desiderio quindi avere dall'esterno qualcosa che ci possa in qualche modo rendere felici se invece ci rivolgiamo verso l'interno cosa che quasi nessuno fa o comunque qualcosa a cui non pensiamo nemmeno se nessuno ce lo dice se iniziamo a rivolgerci verso l'interno iniziamo a comprendere che la felicità è là dentro ma più che felicità forse la felicità è un termine sbagliato secondo me io la chiamerei quiete la quiete è qualcosa che porta poi tranquillità e quindi porta serenità se vuoi quindi non la felicità euforica quella che ci fa sentire in qualche modo euforici ma la quiete la serenità la tranquillità l'assenza di se vuoi di problemi in qualche modo deriva proprio dal fatto di entrare in contatto con quell'oceano di quiete quell'oceano di serenità che siamo noi che è al nostro interno è da sempre lì la nostra esposizione questo l'ho detto in quelle puntate per chi mi ha seguito nelle varie 3-4 puntate che abbiamo fatto su questo sicuramente abbiamo fatto anche delle meditazioni vi ricordate per entrare in contatto con il nostro vero sé ecco in quelle meditazioni se poi le avete anche fatte nei giorni successivi vi siete resi conto che è là che sta la vera tranquillità la vera quiete la vera pace quella che in qualche modo cerchiamo all'esterno ma non troviamo mai ma non potremo mai trovarla all'esterno ve lo dico subito una ricerca che non ha soluzione all'esterno è sempre all'interno nostro interno è sempre lì è sempre stata lì non si è mai mossa è sempre nostra disposizione viene presso a noi non ce ne possiamo mai separare viene sempre perché siamo noi quindi è chiaro che non possiamo separarci da chi siamo noi siamo la quiete siamo la se vuoi anche la felicità derivante da quella quiete siamo la pace e basta rivolgerle l'attenzione basta sapere come fare basta sapere che c'è prima di tutto e poi rivolgersi all'attenzione e quindi in quel momento comprendiamo che la felicità è dentro di noi ma perché? perché l'abbiamo fatto l'abbiamo sperimentato non perché ce l'ha detto Paolo Marrone o perché l'abbiamo letto da qualche parte su qualche libro perché l'abbiamo sperimentato io potrei stare qui a parlarvi altre dieci ore a parlarvi di tutto quello che volete ma finché non sperimentate quelle cose che vi dico c'è poco da fare non riuscirete mai a comprendere esattamente il fatto che la felicità è dentro di noi fino a che non la toccate con mano non la sentite in qualche modo non la percepite e vi rendete conto che quella felicità in realtà è sempre stata lì ma non le abbiamo mai rivolto all'attenzione questo è il problema ok? comunque ok grazie Michele per la puntualizzazione allora vediamo qualche altra domanda Anna Maria mi chiede poniamo zero resistenza quando ci troviamo in presenza? assolutamente sì la presenza è proprio lo strumento se vuoi io ho parlato di osservazione osservare i propri pensieri per riconoscere quando siamo in un momento di resistenza quando stiamo ponendo resistenza e l'osservazione deriva dalla presenza non si può osservare se non si è presenti è chiaro no? quindi la presenza il ricordo di sé il fatto di non identificarsi nella persona che crediamo di essere quello è l'osservatore quello è il vero osservatore con la O maiuscola momenti in cui ci distacchiamo dalla persona dal nome e cognome scritto sul nostro sul nostro documento comprendiamo di essere qualcosa in più e lo possiamo fare attraverso appunto la presenza lì ci rendiamo conto appunto che siamo ben altro e anche lì come ho detto prima ci rendiamo conto perché l'abbiamo fatto non perché ce l'ha detto Paolo Marrone lo abbiamo compreso la vera comprensione arriva con l'esperienza perché le parole poi alla fine non servono a nulla e quello che io dico sono semplicemente come se fosse un cartello stradale io vi indico la direzione ma poi il cartello stradale non vi porta da nessuna parte se non siete voi a prendere quella direzione ed andarci fisicamente ok quindi quello che vi dico io sono delle indicazioni ma se rimanete lì di fronte al cartello a guardare il cartello stradale non rivedete mai nel posto indicato da quel cartello questo è molto importante ok allora un'altra domanda e poi continuiamo allora ecco Daniela mi fa una domanda molto importante mi dice mi chiede basta dire che tutto è un'illusione e la serenità arriva vero Paolo no Daniela non è così purtroppo allora non basta dirsi anzi non serve proprio a nulla dirsi un'illusione soprattutto se stiamo in un momento particolarmente difficile che so io se siamo davanti a un problema grande e l'unica cosa che ci viene in mente è quella di dire sì ma tanto è tutta un'illusione non ne usciamo fuori ne usciamo fuori perché perché ci stiamo prendendo in giro perché la mente razionale è abituata talmente tanto a consigliare questo mondo reale che lei non crederà mai non basterà dirselo per poterlo credere questo è sempre lo stesso discorso di prima finché non ne facciamo esperienza reale non possiamo mai comprendere davvero che il mondo è un'illusione il mondo è un'illusione certo certo che lo è ma il comprenderlo non passa attraverso la mente razionale non può passare attraverso la mente razionale quindi non può servire a nulla leggere i libri mille libri sull'argomento il libro è importante come ho detto prima perché ci indica la direzione da prendere ci dice qual è dov'è che dobbiamo guardare in qualche modo il fatto che per esempio la pace la quiete dentro di noi qualcuno deve dircelo altrimenti non ci consegnano un manuale di istruzioni quando nasciamo quindi questa cosa non ce la dicono non ce la dicono a scuola non ce la dice nemmeno la religione ahimè tant'è che la religione ci mette quella ufficiale ci mette un dio al di fuori di noi ci fa credere l'esistenza di un signore con la barba anche un po' incazzato perché facciamo cose che non gli piacciono che sta su una nuvoletta e ci guarda con l'occhio un po' incavolato ecco no non è così è chiaro che quel dio siamo noi questo è il discorso però il dirlo non basta quindi così come non basta dirsi un'illusione va sperimentato va sperimentato come? entrando al nostro interno è lì la risposta è soltanto lì la risposta comprendere che c'è qualcosa dentro di noi c'è quello spazio vuoto che è fra due pensieri ma di questo abbiamo già parlato nelle varie puntate che abbiamo già fatto quello spazio vuoto quello spazio di silenzio che c'è fra due pensieri che noi crediamo non sia nulla e che non abbia alcuna importanza perché? perché noi diamo più importanza ai vari pensieri al pensiero che arriva prima a quello che arriva dopo e così via ma quello spazio fra due pensieri che è brevissimo perché i pensieri arrivano uno presso l'altro in maniera velocissima se ci fermassimo un attimo a guardare osservare quello spazio a entrare in quella porticina strettissima ci accorgeremo che quella porticina porta in un luogo bellissimo un luogo stupendo che è dentro di noi non sta da nessun'altra parte non sta là fuori sta dentro e lì ci accorgiamo che siamo ben altro quando iniziamo a entrare in contatto con quella consapevolezza comprendiamo che noi siamo quella consapevolezza e quindi non siamo la persona con nome e cognome in cui identifichiamo è lì che capiamo l'illusione è lì che comprendiamo che quella persona in cui ci identifichiamo è soltanto un essere fittizio che di fatto non esiste è soltanto una montagna di credenze in cui ci siamo identificati in cui siamo entrati dentro e abbiamo creduto di essere quella persona la nostra vera natura la nostra vera identità è dentro di noi basta entrarci ribadisco se vi ricordate nel monaco che non aveva un passato il monaco appunto a un certo punto mi fa entrare in una porticina io pensavo prima di entrare in quella porticina che là dietro non ci fosse nulla dico ma dove mi sta portando questo se da quella parte c'è la montagna e invece poi apre quella porticina e scopro un giardino bellissimo con una cascata con tanti fiori tante cose bellissime ecco quello è proprio il simbolo che sta a rappresentare il fatto che noi non crediamo che dietro quella porta ci sia qualcosa di importante qualcosa di fondamentale e quindi non apriamo mai quella porta anzi la ignoriamo proprio questo è il discorso quindi Anna Maria il discorso è che bisogna comprendere chi siamo non attraverso le parole ma attraverso la mente perché la mente non può comprendere qualcosa che va oltre la mente questo è fondamentale da comprendere non è possibile che la mente possa comprendere qualcosa che non le appartiene la mente è fatta di tempo la mente crea il tempo e quindi non possiamo per esempio comprendere che quella pace quella quiete è senza tempo se non ci entriamo dentro ma non ci entriamo con la mente ci entriamo con il cuore ci entriamo con le sensazioni ci entriamo con il sentire quello che c'è là dentro comunque c'è una diretta su questo con tanto di meditazione quindi se volete andatevi a rivedere quella diretta e magari rifate quella meditazione tra l'altro quella meditazione l'ho anche isolata perché l'ho messa come file video isolandola dal resto della diretta quindi la potete poco fare da sola senza dover ascoltare tutto quello che dico prima e dopo però magari se vi ascoltate anche la diretta è meglio perché lì spiego anche quello che poi in qualche modo vuol dire quello che andiamo a che andiamo a sperimentare però invece a farla con l'esperienza appunto chi siamo veramente lo possiamo soltanto comprendere nel momento in cui tocchiamo con mano il nostro essere in cui ci accorgiamo di quanto siamo grandi di quanto siamo se volete immutabili perché quello è quella nostra natura perché quando entriamo in contatto con il nostro essere comprendiamo che quell'essere quella consapevolezza che non è nemmeno un essere perché non ha una personalità non ha una identificazione comprendiamo che quella consapevolezza è fatta di pura mente nient'altro mente con la M maiuscola però non confondere con la mente con la M minuscola di quella di cui stavo parlando prima è una mente infinita che non ha limiti né spaziali né temporali perché viene dal di fuori del tempo e ce ne rendiamo conto soltanto se ci entriamo dentro poi ripeto lì ci sono esercizi che vi invito a fare allora Daniela mi chiede se uno ha fantasia può pensare che trova quel giardino quel giardino non serve fantasia per trovarlo Daniela basta fare esercizio che ho fatto fare in qualche diretta fa non mi ricordo se due o tre dirette fa quindi ritrova quella diretta fai quella meditazione se non l'hai già fatta e troverai quel giardino assolutamente ma non è un giardino non troverai erba fiori o uccellini troverai un mondo fatto di pace fatto di tranquillità fatto di serenità fatto di qualcosa che non ha inizio né fine qualcosa che ti metterà una pace infinita dove troverai quella felicità appunto che magari stiamo cercando fuori di noi senza trovarla ok andiamo avanti perché volevo dire altre cose riguardo il nostro argomento di questa sera anche se chiaramente molto collegato con quello che stiamo dicendo con queste domande molto interessanti allora quindi la zero resistenza è se volete l'accettare in qualche modo accettare quello che c'è quello che fa parte del qui e ora proprio perché in questo modo accettiamo noi stessi ecco questo è il concetto accettare il qui e ora vuol dire accettare noi stessi perché noi siamo quel qui e ora perché lo stiamo creando perché tutto avviene dentro di noi quindi è parte di noi non è qualcosa di separato non è qualcosa di esterno da considerare come se fosse come se non ci appartenesse appunto non è così e è importante però comprendere che l'accettazione non vuol dire rassegnazione sono due cose completamente differenti questo è molto importante perché molti infatti obiettano ma se accettare vuol dire che allora io devo star sito e subire tutto ciò che mi accade no non vuol dire questo assolutamente non ho mai detto questo l'accettazione anzi è un concetto di forza se volete l'accettazione è ribadire di essere responsabili unici responsabili i creatori di ciò che accade questo vuol dire essere responsabili è un concetto di forza non un concetto di debolezza invece la rassegnazione è un concetto di debolezza la rassegnazione è qualcosa di passivo che non ha nulla a che fare con la responsabilità con l'accettazione se volete e nella rassegnazione c'è ancora giudizio in qualche modo perché mi sto rassegnando dicendo ah sì quello che accade non posso farci nulla e quindi è un ribadire che il mondo è separato quindi è una forma di resistenza la rassegnazione è un'altra forma di resistenza tutte le volte che noi ribadiamo attraverso qualunque nostro atteggiamento qualunque nostro pensiero che il mondo è separato stiamo opporrendo resistenza resistenza a cosa? alla verità al fatto che il mondo è un'illusione il fatto che il mondo lo stiamo creando noi quella è la verità ok? e quindi nella rassegnazione c'è il giudizio appunto c'è la separazione perché penso di non poter far nulla sì va bene ma io sto qui mi rassegno no l'accettazione invece è qualcosa di attivo di potente l'accettazione nell'accettazione non c'è giudizio è proprio l'opposto nell'accettazione io dico non giudico ciò che accade perché va bene comunque il mondo è perfetto perché io ne sono responsabile cavolo più forte di così più potente di così cosa volete cosa desiderate è l'espressione di potenza assoluta è quello di dire io sono responsabile quindi che me ne lamento a fare è stupido lamentarsene ecco che quindi l'accettazione non ha giudizio perché è un concetto di forza è un concetto che ribadisce la nostra responsabilità il nostro ruolo è un concetto di esseri divini che creano la realtà invece la rassegnazione nella rassegnazione c'è giudizio c'è separazione nell'accettazione non c'è separazione nell'accettazione io dico questo mi appartiene è una parte di me è come se fosse un mio figlio non posso ripudiarlo perché l'ho generato io così come non potremmo mai ripudiare un figlio così non possiamo ripudiare qualcosa che in qualche modo abbiamo creato noi lo abbiamo proprio creato in tutti i sensi perché sta dentro di noi il mondo sembra esterno ma in realtà è dentro di noi non è esterno non c'è nulla là fuori ecco entrate in quest'altra ottica non c'è nulla là fuori bene c'è soltanto il nostro essere che racchiude tutto ciò che vediamo tutto ma proprio tutto senza eccezione alcuna se riusciamo a comprendere questo riusciamo anche a comprendere la differenza fra accettazione e rassegnazione quindi rassegnazione lo ribadisco è un concetto che implica giudizio implica separazione implica vittimismo se volete implica impotenza perché dico non posso farci nulla l'accettazione è contrario l'accettazione non ha giudizio non giudica dice lo accetto punto è un concetto di forza perché dice io sono responsabile questa cosa mi appartiene quindi è un concetto che unisce e non separa ed è un concetto che ci fa essere i creatori non le vittime di ciò che ci circonda questo è molto importante ecco attraverso l'accettazione riesco ad accettare quando ho trasceso la dualità per riprendere la domanda di prima riesco ad accettare quando ho trasceso quando ho compreso che quello che sto vedendo è semplicemente un'illusione qualcosa che non esiste qualcosa che in qualche modo è al mio interno non ha una consistenza reale se io non ci fossi non esisterebbe e quindi è qualcosa che esiste perché esisto io questo va compreso e quindi l'accettazione è qualcosa appunto che arriva quando comprendiamo l'illusualità del mondo e quindi quando lo trascendiamo quando andiamo oltre la dualità e l'accettazione viene proprio dal riconoscimento che il mondo è perfetto così com'è questo è un concetto che ho già detto tantissime volte per chi mi segue questo lo sa perfettamente ora dire che il mondo è perfetto non vuol dire che il mondo è bello nel mondo succedono solo cose belle cose che ci piacciono e tutto idilliaco no perché non è così e lo sappiamo il mondo è perfetto perché accade sempre ciò che deve accadere accade sempre la cosa giusta al momento giusto anche quando quella cosa non ci piace ecco perché è perfetto è perfetto perché è un meccanismo perfetto un meccanismo in cui tutti gli ingranaggi sono perfettamente sincronizzati fra di loro tant'è che il caso o la fortuna o la sfortuna non esistono questo l'ho detto mille volte l'ho scritto nei miei libri l'ho dimostrato attraverso la fisica quantistica la fisica quantistica la fisica in generale non ha mai trovato qualcosa che sia il caso o la fortuna o la sfortuna non esiste una formula che descrive la fortuna perché? perché semplicemente non esiste non potranno mai trovarla questa formula anche se la cercassero per i prossimi mille anni perché semplicemente è tutto perfetto è tutto sincronizzato è tutto è tutto in qualche modo tutto ha uno scopo e quindi non possiamo mai pensare al fatto che sia qualcosa che accada per caso o accada perché sono sfigato o magari capitano tutte a me no? classica classica lamentella che fanno le vittime o chi si considera vittima ecco dobbiamo comprendere che il mondo è perfetto il mondo è perfetto perché è un meccanismo perfetto in cui tutto accade esattamente nel momento giusto e nel luogo giusto questo è anche quando quelle cose che accadono non ci piacciono qui entra in gioco l'accettazione proprio perché stiamo ribadendo attraverso l'accettazione che il mondo lo stiamo creando noi questo è fondamentale il problema è che noi invece giudichiamo il qui e ora diciamo quello mi piace e quello non mi piace quello è giusto quello non è giusto quello è sbagliato quello e così via in realtà giudichiamo il mondo pensando di poter pensando di avere un modello di mondo perfetto nella nostra testa e che quindi se il mondo non si adegua a questo modello ipotetico che noi abbiamo nella nostra mente il mondo non è perfetto il mondo è un mondo sbagliato mondo fatto di persone cattive oppure fatto di un mondo di ingiustizie perché perché non aderisce a quello che è la nostra idea ideale di mondo ma considerate che l'idea che abbiamo del mondo è esattamente l'idea che abbiamo di noi stessi ecco questa è un'altra cosa molto importante da comprendere se il mondo siamo noi e se il mondo è una proiezione di quello che siamo è chiaro che stiamo proiettando cosa? stiamo proiettando quello che crediamo di noi stessi quindi se ci crediamo esseri incompleti esseri in colpa peccatori o che so io comunque sia esseri miseri no? che stiamo proiettando semplicemente questo all'esterno e chiaramente lo proiettiamo come? lo promettiamo negli altri e quindi magari negli altri troviamo esattamente quelle cose troviamo l'inedeguatezza troviamo la colpa troviamo troviamo la cattiveria troviamo non perché siamo cattivi attenzione non voglio dire questo cerchiamo di comprendere bene questo concetto non è che io vedo le persone cattive perché io sono cattivo è perché io mi credo cattivo che sono due cose diverse credersi cattivo non vuol dire esserlo chiaramente anche perché non esistono persone cattive sia ben chiaro in realtà noi siamo esseri d'amore tutti siamo esseri di infinito amore amore incondizionato purtroppo la nostra credenza nella separazione ci ha fatto credere nel concetto di colpa e il concetto di colpa porta con sé automaticamente il fatto che chi è colpevole è anche un cattivo quindi a livello inconscio a livello profondissimo non ce ne rendiamo nemmeno conto di questo perché sicuramente voi state dicendo ma io non credo di essere cattivo certo nessuno pensa di essere cattivo ci mancherebbe altro il problema è che questa è una credenza che abbiamo depositata talmente in profondità talmente dentro fa parte proprio del nostro essere come credenza derivante dal fatto che crediamo che il mondo sia esterno sia separato da noi le due cose sono addirittura inscindibili cioè crediamo nella colpa perché il mondo lo pensiamo separato e pensiamo che il mondo sia separato perché crediamo nella colpa che crediamo nel peccato sono due cose assolutamente inscindibili quindi crediamo di essere dei peccatori lo crediamo a livello inconscio a livello mentale a livello razionale questa cosa non viene fuori normalmente ma a livello inconscio c'è e quindi la proiettiamo quindi proiettiamo le tra virgolette brutture del mondo semplicemente perché crediamo che quella sia la nostra immagine che quella in qualche modo ci rappresenti lo crediamo a livello inconscio ribadisco quindi è chiaro è normale che magari nessuno riconosca questo fra i propri pensieri ci mancherebbe altro lo so perfettamente che non crediamo di essere cattivi nessuno lo crede però questo esiste è un qualcosa che ci portiamo dietro addirittura dalla nascita forse da vite precedenti probabilmente c'è scritto nel dna questa credenza che fa parte proprio del nostro noi creiamo il mondo a nostra immagine e somiglianza e siccome crediamo di essere separati dal resto creiamo un mondo separato capite questo? e quindi con la separazione viene fuori tutto perché la separazione porta la paura porta il rancore porta l'odio porta porta quindi anche la colpa perché nella separazione c'è anche la colpa perché c'è quello che fa c'è la vittima c'è il carnefice perché la dualità si esprime in tantissimi modi e tutto questo è comunque una creazione derivante dal fatto derivante se volete dal peccato originale quello che le religioni alcune religioni chiamano il peccato originale perché in realtà sapete che cosa è il peccato originale? è la credenza iniziale l'errore iniziale che abbiamo fatto di credere di essere separati dal resto quel piccolo errore stupido errore addirittura su un corso in miracoli c'è scritto che avremmo dovuto riderne di questo ma ci siamo dimenticati di riderne l'abbiamo presa come una cosa seria perché appunto c'è scritto sul corso in miracoli che nessuna mente sana penserebbe di poter essere separata da tutto quanto il resto la nostra mente se volete insana tra virgolette ha creduto questo e noi le siamo andati dietro abbiamo creduto alla separazione e da lì è nato tutto è nato il mondo se volete il big bang è quello il big bang di cui parla la cosmologia di cui parla la scienza è il momento in cui abbiamo creduto di essere separati ed è stato creato il mondo a nostra immagine e somiglianza ma a nostra immagine e somiglianza di cosa? delle nostre credenze appunto noi il mondo è una macchina perfetta perché ricrea rende materiali rende materializza in qualche modo rende reali le nostre credenze quindi è un mondo che non realizza i nostri desideri realizza le nostre credenze questo ricordatene magari se volete fare qualche volete applicare legge di attrazione quindi il mondo riproduce ciò che credete non ciò che desiderate questo è molto importante da ricordare giusto così per aprire una parentesi della legge di attrazione allora e quindi la resistenza che facciamo verso il qui e ora è una resistenza verso noi stessi ma se ci pensate è una resistenza verso chi siamo noi realmente siamo appunto esseri divini quindi è una resistenza verso la nostra divinità la resistenza verso il mondo è il non riconoscere la nostra divinità il nostro essere immensi il nostro essere infiniti senza tempo senza spazio senza alcun limite la resistenza quindi deriva da non riconoscere noi stessi e quindi cosa succede? succede che questa resistenza è proprio quella che crea se volete queste barriere questi limiti oltre i quali in qualche modo abbiamo paura di andare perché pensiamo che là fuori ci sia un mondo cattivo ostile che ci possa far del male in quel momento e quindi questa resistenza crea appunto le nostre paure in qualche modo perché la dualità crea la paura la dualità è quella che ci fa credere in un mondo esterno che quindi automaticamente ci fa credere che il mondo esterno può perché esterno può perché separato possa farci del male in qualunque momento ecco e quindi non riconoscere la nostra divinità si traduce in che cosa? si traduce in paura tutte le varie nostre paure che abbiamo sono proprio le paure che sono state create dalla nostra credenza nella dualità dal nostro non riconoscere la nostra divinità però voglio farvi notare una cosa le paure così come colunque altra cosa proprio perché il mondo è perfetto hanno il loro scopo stanno lì per un motivo ben preciso stanno lì per essere riconosciute per essere osservate per essere trascese perché? perché il momento in cui noi riconosciamo la nostra paura l'abbiamo smascherata e quindi quella paura cosa sta a fare lì? ci sta rappresentando una nostra resistenza quindi volete sapere quali sono le vostre resistenze? osservate le vostre paure di cosa avete paura? ecco quelle sono le vostre resistenze sono resistenze che vi stanno trattenendo e quindi stanno in qualche modo comprimendo non facendo espandere il vostro vero sé è come se fossero delle corde tenute tese a stringere in qualche modo il vostro essere è chiaro sono corde fittizie sono corde fatte di nulla fatte di pensieri che possiamo spezzare in un qualunque momento basta volerlo però non lo sappiamo e noi crediamo che la paura sia generata da qualcosa di reale là fuori ho paura perché c'è fuori qualcosa che mi fa paura no è il contrario c'è là fuori qualcosa che mi fa paura perché io ho paura quindi l'oggetto della paura è generato dalla paura causa ed effetto sono opposti sono invertiti capite questo e quella paura sta lì per farvi per darvi la possibilità di riconoscerla quindi guardatele in faccia le vostre paure guardate in faccia quei mostri che vi fanno paura in questo momento per chi ha visto il signore degli anelli sa perfettamente che Gandalf il maghetto di quella serie di quel film di quel libro a un certo punto inizia a correre se vi ricordate per chi ha visto il film o per chi ha letto il libro inseguito da un mostro enorme bruttissimo che lo sta lo sta quasi per prendere e Gandalf cosa fa? invece di continuare a scappare a correre a un certo punto comprende in qualche modo che quello lì è fatto di nulla è un mostro fittizio è un mostro che sta creando lui di fatto quindi cosa fa? si ferma pianta il suo bastone per terra e gli dice tu di qui non passerai e glielo dice in un modo così fermo così così perentorio che quel mostro addirittura a un certo punto scompare si dissolve perché è fatto di nulla perché nel momento in cui voi guardate le vostre paure in faccia comprendete che sono fatte di nulla sono qualcosa che avete creato voi non generate da qualcosa d'esterno le state creando voi attraverso le cosa? attraverso le vostre resistenze sono la rappresentazione delle vostre resistenze quindi guardatele queste paure osservatele e fate come Gandalf ditele tu qui non passerai riconoscetele come mostri fatti di fumo di nulla avete mai provato a prendere il fumo non acchiappate nulla perché fumo appunto ecco quei mostri sono fatti di fumo sono semplicemente delle figure proiettate che non potranno mai farvi del male ma voi credete che il fatto vi possono far del male e le nostre credenze diventano realtà ahimè quindi è importante comprendere che ciò che apparentemente è la causa della nostra paura in realtà ne è l'effetto se comprendete questo avete compreso tutto comprendete questo avete compreso tutto scrivetelo da qualche parte ok l'oggetto della paura è l'effetto non è la causa delle mie paure quindi quelle paure lavoratele guardatele osservatele fate in modo che si dissolvano perché nel momento in cui le guardate nel momento in cui le portate alla luce della consapevolezza quelle paure scompaiono quelle paure mostrano il loro lato illusorio se le guardate e se invece ne scappate se invece le tenete dentro un cassetto le rifugite è chiaro che quelle paure diventeranno sempre più grandi sempre più forti e vi sembrerà sempre in ogni momento che vi stanno per prendere per acchiappare esattamente come faceva Gandalf finché correva quando Gandalf in quel film si ferma si ferma anche il mostro proprio perché in quel momento lui ha riconosciuto che quel mostro non poteva fargli nessun male ok quindi questo è molto molto importante quindi le resistenze come vedete sono aspetti che ci possono addirittura aiutare a fare tantissime cose a superare le nostre paure le resistenze si trasformano in paura quindi se noi riconosciamo le nostre paure riconosciamo anche le nostre resistenze e attraverso l'osservazione e quindi attraverso la presenza per rispondere anche alla domanda di prima attraverso la presenza quindi attraverso l'esercizio attraverso l'abitudine mentale a osservare i propri pensieri cosa che normalmente non facciamo ahimè ma ci facciamo travolgere dei pensieri che ci trasportano dappertutto nel passato nel futuro ci trasportano dappertutto tranne l'unico posto che veramente esiste che è il qui e ora fateci caso i vostri pensieri scusate i vostri pensieri vi portano nel futuro attraverso le vostre paure le ansie o vi portano nel passato attraverso i rancori attraverso i ricordi di cose che magari non vi piacciono e quant'altro ma non vi fanno mai stare nel presente perché perché per stare nel presente bisogna essere senza mente tra virgolette cioè bisogna spegnere quella mente perché nel presente la mente non può vivere sapete perché nel presente la mente non può vivere perché la mente è fatta di tempo la sostanza di cui è fatta la mente è il tempo tempo e mente sono la stessa cosa e quindi se voi state nel qui e ora e il qui e ora è un posto senza tempo sappiatelo il qui e ora è un posto senza tempo anche questo da scrivere se volete ricordarvelo lì la mente non può stare lì la mente cessa di esistere se voi siete presenti nel qui e ora gli esercizi per farlo ce ne sono tantissimi basta leggere che sono un libro di Brizzi per esempio l'officina chemica è bellissimo leggetelo di Brizzi vi spiega come farlo ma l'ho detto anche io in tantissime altre puntate ne abbiamo parlato abbiamo anche dedicato una puntata intera sulla presenza quando siete in presenza quando siete centrati nel qui e ora la mente scompare quindi sapete cosa succede? che insieme alla mente lo scompaiono i problemi perché i problemi stanno nella mente scompaiono le paure scompaiono i problemi scompare tutto scompare il passato e il futuro perché i vostri problemi non sono nel qui e ora se voi siete nel qui e ora non avete alcun problema i problemi li avete quando li spostate nel passato o nel futuro perché vi preoccupate di cose potrebbero accadere o perché magari rimuginate cose accadute nel passato altrimenti il tempo non c'è nel qui e ora ecco e quindi la presenza è fondamentale la presenza poi è l'unica cosa che vi consente di fare la cosa più importante che c'è e cioè osservare i vostri pensieri rendervi conto di quello che state pensando questo vuol dire osservare rendervi conto voi non vi rendete conto il momento dei vostri pensieri vi sarà capitato mille volte di guidare la macchina e magari pensare a che ne so dove andrete domani o il bambino lo prenderà a scuola piuttosto che troverò traffico piuttosto che chissà ieri ho fatto quello domani farò quell'altro e tutto questo vi trascina nel senso che addirittura molte volte uno guida in trance arrivate al posto dove dovete arrivare non ricordate nemmeno che state avete fatto semplicemente perché la mente era assorbita da tutt'altro non eravate presenti non stavate guidando pensando di guidare quindi iniziate a fare le cose pensando di fare quelle cose se mangiate pensate che state mangiando se camminate pensate che state camminando se state guidando pensate che state guidando se state parlando pensate che state parlando osservatevi osservate colui che parla osservate colui che guida osservate colui che mangia osservate colui che fa qualunque cosa quello vuol dire stare nel qui e ora quello vuol dire essere presenti quello vuol dire ricordo di sé tutti i termini che sicuramente avete già sentito ripeto se leggete un libro di Brizzi tutto questo è scritto anche in maniera molto approfondita ricordo di sé è ricordarsi di sé quindi distaccarsi da quella persona fittizia che non esiste ripeto non esiste un'illusione quel nome e cognome scritto sulla carta d'identità quello vuol dire essere presenti e lì le resistenze non esistono lì riusciamo a trascendere il mondo a trascendere l'illusione a fare in modo che le cose che in qualche modo ci preoccupano non ci possano toccare perché la preoccupazione lo dice la parola stessa preoccuparsi prima che accada qualcosa pensate quanto è stupido farlo se vi preoccupate siete nel futuro siete in un posto che non c'è perché il futuro non c'è se non è la vostra mente così come non c'è nessun passato se non è la vostra mente quindi capite che quando siete nel passato nel futuro non siete semplicemente non state vivendo siete degli automi imballiate che cosa? imballiate la vostra mente che è fatta di tempo e che ha tutto l'interesse a trascinarvi nel passato nel futuro perché semplicemente in quel modo lei è ancora viva le permette di vivere alla mente in quel modo lì ma la sua vita è la vostra morte morte fittizia non è la morte reale quella del corpo è una morte forse la morte più brutta che c'è cioè il non vivere il momento presente vi state perdendo la vita perché la vita accade nel qui e ora la vita accade nel qui e ora e basta non accade nel presente nel passato nel futuro anche questa scrivetevala di frase ok? ne sto dando tante da scrivere questa sera scrivetevi anche quest'altra frase la vita è qui e ora se non state nel qui e ora non state vivendo semplice ok? ecco quindi e stare nel qui e ora vuol dire eliminare resistenze quindi se per tutta la puntata vi siete fatti la domanda ma come faccio a eliminare resistenze state nel qui e ora perché la resistenza deriva dal non stare nel qui e ora e quindi vuol dire credere nella dualità credere in un mondo fittizio non esiste vuol dire stare nel passato o nel futuro vuol dire quindi preoccuparsi o avere rancori o quant'altro ecco state nel qui e ora iniziate ad abituarvi a stare nel qui e ora questo vuol dire quando dico osservate la vostra mente e in quel modo voi riuscite anche a fare una cosa molto più importante che è quella che ho detto prima cioè ad accorgervi del fatto che state opponendo resistenza per esempio lamentandovi per esempio giudicando tutte cose che accadono soltanto quando non siete nel qui e ora ma se siete nel qui e ora quelle cose non possono accadere ma anche se accadono ve ne rendete subito conto subito immediatamente quindi non hanno vita non hanno la possibilità di vivere e di trascinarvi dove vogliono loro cioè nella dualità cioè nell'illusione cioè nella paura quindi è importante comprendere che stare nel qui e ora è la chiave di tutto come ho scritto nel sottotitolo è la chiave della realizzazione vi realizzate e guardate vi dico anche un'altra cosa visto che tanti si avvicinano a questi argomenti attraverso legge di attrazione perché magari leggono qualche libro di legge di attrazione si accorgono che questa è una cosa fichissima che bello adesso inizio a fare visualizzazioni sappiate che legge di attrazione funziona se voi siete nel qui e ora se state con la mente pagando chissà dove legge di attrazione non potrà mai funzionare perché legge di attrazione presuppone che voi abbiate un'attenzione fissa costante verso qualcosa quindi voi siate i padroni di quell'attenzione questo presuppone legge di attrazione chiamate la legge di disonanza se volete è lo stesso e quindi una mente che vaga senza controllo una mente caotica genererà un mondo caotico se vogliamo proprio parlare di legge di attrazione perché? perché è chiaro che il mondo è a immagine e somiglianza di quello che è la nostra mente e quindi è chiaro che una mente caotica non può che fare che creare un mondo caotico quindi se volete realizzare qualche desiderio forse la prima preoccupazione che dovreste avere non è tanto quella di visualizzare quel desiderio sì, visualizzarlo è importante anche lì ci sono delle cose da fare molto importanti ma la prima cosa ancora prima di visualizzare è quella di prendere il controllo della propria mente perché altrimenti succede che vi mettete a visualizzare e sapete che succede? che non riuscite a visualizzare per più di tre secondi la stessa cosa perché la mente inizia a portarvi di qua e di là ecco che quindi la presenza è un'abitudine mentale forse la più importante abitudine mentale da prendere e una volta che l'avete fatta diventare un'abitudine stare qui e ora diventerà quasi automatico per voi perché magari quando state in fila alle poste piuttosto che bagare con la mente in chissà quali pensieri vi ricorderete di ricordarvi di voi stessi scusate del gioco di parole perdone del gioco di parole vi ricorderete di ricordarvi di voi stessi magari in quella in quella in quella mezz'ora in quel quarto d'ora in cui fate la fila alle poste magari la usate per fare una sanissima meditazione in cui rimanete nel qui e ora non ve ne andate a spasso con la mente che ore sono ok abbiamo quasi finito l'ultima cosa che volevo dire questo riguarda fondamentalmente la nostra identificazione che è un'altra forma di resistenza l'identificazione proprio perché è un'altra cosa che ci fa cadere ancora di più nella dualità identificarci nell'essere nella persona nel nome e cognome crediamo di essere in qualche modo ecco sappiate che quella persona non esiste questo già lo sapete se mi seguite perché l'avrò detto migliaia di volte ho scritto nei miei libri nel mio blog eccetera eccetera quella persona non esiste quella persona è soltanto una costruzione mentale è il credere nella separazione che ha creato quella forma illusoria che ha un nome e cognome appunto che in qualche modo credete vi rappresenti voi siete ben altro appunto come ho detto prima il problema è che quella identificazione si porta presso una storia perché noi ci identifichiamo ahimè con la nostra storia questo è il discorso tant'è che molte persone dicono io sono così perché mi è successo questo quindi ecco quel dire io sono così vuol dire identificarsi oltre che nella persona identificarsi nella propria storia in qualche modo noi pensiamo sia la cosa più importante del mondo la nostra storia da dove proveniamo cosa abbiamo fatto le nostre esperienze si sono importanti ma le esperienze anche quelle vanno trascese cioè al momento in cui accade qualcosa di bello o di brutto che sia quella cosa lì va lavorata in qualche modo va usata perché come ho detto prima il mondo è perfetto tutto ha uno scopo quindi va usata per poter crescere se volete per poter fare un ulteriore salto di consapevolezza e quindi riconoscere per esempio che quell'evento l'abbiamo attirato noi nella nostra vita l'abbiamo creato noi quell'evento quella persona metteteci quello che volete quella situazione e quindi trascendendola che vuol dire riconoscerla vi ricordate l'ho detto prima trascendere qualcosa vuol dire riconoscerne l'illusorità quindi andare oltre guardare oltre il velo in qualche modo quindi trascendere quella cosa quindi la lavorazione vuol dire semplicemente riconoscerla per quello che è ok e non fermarsi lì magari con la rabbia con il rancore rimuginando mille volte quelle cose lì questo vuol dire anche non portarsi dietro il proprio passato e guardate quel passato lì perché dico che non bisogna portarselo dietro perché quella è un'ancora è come se fossimo legati da una molla a un muro e ogni volta che tentiamo di allontanarci quella molla ci tira indietro è perché quello è il nostro passato che ci portiamo dietro è una zavorra pesantissima che abbiamo sulle spalle che potremmo togliere in qualunque momento però finché noi crediamo di essere quella storia e quindi ci leghiamo a quelle situazioni magari portandoci dietro del rancore verso delle persone verso delle situazioni magari appunto continuando a giudicare cose accadute in passato non ripulendo se volete quel passato attraverso attraverso il riconoscimento del fatto che lì c'era una lezione importantissima da imparare e quindi una volta imparata la lezione si va avanti è come l'università quando si passa un esame si va avanti si guarda il prossimo esame non è che ci mettiamo a pensare agli esami fatti tutto il tempo non ci importa più nulla di quello fatto l'esame ok l'abbiamo superato e finché un esame non si supera l'università che succede? beh se vogliamo laurearci quell'esame va superato ma l'università non importa possiamo anche farlo mille volte lo stesso esame possiamo andare fuori corso e fare tutti tutti gli esami che vogliamo quante volte vogliamo ma finché non li faremo tutti non li supereremo tutti non ci potremo laureare quindi se vogliamo la laurea se volete da persone risvegliate è quella la laurea più importante di tutte perché è l'unica laurea che ci porteremo dietro anche dopo la morte quella laurea lì bisogna guadagnarsela come? attraverso appunto comprendere il fatto di comprendere che quelle esperienze sono esperienze quindi questa è l'ultima forma di resistenza di quello parlarvi di stasera cioè il fatto che ci attacchiamo al nostro passato identificandoci in quel passato ah mi hanno fatto quel torto quindi mi identifico nella persona e quindi nel torto che ho ricevuto e quindi non posso perdonare perché ah beh l'hanno fatto a me capite la stupidità di tutta questa roba quel me a cui ci riferiamo non esiste non esiste così come non esiste quel torto perché? perché c'è soltanto una lezione che serviva soltanto a farci comprendere che era tutta un'illusione appunto ma non avendo compreso l'esame quell'esame va rifatto ancora e poi ancora e poi ancora e poi ancora fino a che non arriveremo finalmente a comprendere che quello torto lì non esiste che quella è un'illusione che quel passato a cui ci aggrappiamo non esiste nemmeno lui e che non esiste nemmeno la persona a cui ci aggrappiamo che ha quel passato se non esiste la persona come fa a esistere il suo passato? capite? sono due illusioni che teniamo in piedi noi attraverso le nostre credenze quindi lasciamo andare quel passato perdoniamo attraverso il perdono ma su questo magari faremo una puntata a parte perché sul perdono c'è da parlare forse altre due ore accendo soltanto il concetto fondamentale il perdono non vuol dire perdonare l'altro perché sì ok hai fatto quella cosa ma io sono buono e ti perdono perché questo è un trucco dell'ego è una trappola dell'ego attenzione il perdono vuol dire riconoscere che non c'è torto il vero perdono riconoscere che non c'è bisogno di perdono quello è il vero perdono quando riuscite a fare quel tipo di perdono comprendendo quindi che non c'è torto e quindi il perdono stesso non ha senso di esistere allora avete superato l'esame allora avete veramente superato l'esame e quell'esame lì non dovete più rifarlo perché siete un passo più avanti rispetto alla laurea che volete prendere da persone risvegliate ok benissimo ok va bene allora questa sera spero di avervi un po' fatto comprendere quali sono le nostre resistenze come ho detto all'inizio questa è l'ultima puntata di quest'anno quindi la prossima ci sarà a gennaio poi la data la vediamo insomma non so ancora quando ma i primi di gennaio riprenderemo queste dirette per il momento quindi vi saluto vi auguro buone feste e niente alla prossima ciao a tutti 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 ciao a tutti